La multiculturalità ha dominato la 76esima edizione degli Emmy Awards tenutasi domenica a Los Angeles. Il dramastorico nippo statunitense Shogun ha ottenuto 18 premi, tra i quali quello per la miglior serie drammatica, miglior attore e miglior attrice. Si tratta della prima volta per degli attori giapponesi. L'attrice di origini portoricane, Liza Colon Zayas, ha trionfato come miglior attrice e non protagonista nella serie comica The Bear. Altri programmi televisivi pluripremiati sono stati la serie Axe, che ha vinto come miglior serie comica, e la miniserie Baby and Year, firmata Netflix.